Gentili telespettatori, buona giornata. Vediamo le ultimissime notizie sulle elezioni politiche del 2022. Più Europa ribadisce il sostegno al patto con il Partito Democratico e Azione. Il Partito Democratico così esprime questo apprezzamento in una nota diramata poco fa dalla segreteria di Più Europa che ribadisce il sostegno al patto sottoscritto martedì scorso tra lo stesso PD e la federazione Più Europa e Azione. Appendino sono a disposizione del Movimento 5 Stelle candidandomi. Sono qui per dirvi che ho deciso di mettermi a disposizione della comunità del Movimento 5 Stelle, del progetto di Conte, candidandomi alle prossime elezioni politiche. L'ho annuncia su Instagram Chiara Appendino, ex sindaca di Torino. Il Movimento aggiunge la mia casa politica e sono orgogliosa di farne parte e quando sei parte di qualcosa devi avere il coraggio di metterti in gioco, anche nei momenti più. Difficili. Anche lei ha la ricerca dello stipendio perduto. E poi andiamo a vedere che Salvini attacca il vignettista da Maccox a Malox e un attimo. Un artista di sinistra, educato e democratico, dice che gli italiani sono un popolo di ignoranti se votano per Lega e Destra. Gli rispondiamo con un sorriso, con lavoro e idee per far tornare grande l'Italia. Bacioni, che poi di Maccox a Malox e un attimo lo scrive su Twitter, il segretario della Lega Matteo Salvini commentando l'intervista dei giorni scorsi alla Repubblica del vignettista di propaganda live, l'Espresso e il Foglio. Quindi un Salvini che torna a mandare i Bacioni. Gubitosa, no alle ammucchiate, l'unico voto utile è per il Movimento 5 Stelle. Dice, ora è ufficiale, il carrozzone composto da Letta, dal partito di Tabacci, Sinistra e Verdi, Calenda, Gelmini, Garfagna è servito. Avanti con Giuseppe Conte, forte dei nostri valori. Queste ammucchiate offrono zero prospettive per il Paese. Ma vedrete che il Movimento 5 Stelle farà un patto con il PD dopo il voto. Calenda oggi scioglie la riserva sul suo nuovo assetto dell'alleanza costruita dal segretario Dem Letta. Alle 14.30 sarà ospite di Lucia Annunziata a mezz'ora in più su Rai 3. Sarà l'occasione per sciogliere la riserva sull'alleanza siglata ieri dal PD con Sinistra Italiana Verdi e impegno civico di Luigi Di Maio. Renzi, mentre parlano di alleanze, il mondo brucia. E così il gioco sul futuro del pianeta, parla così il leader di Italia Viva Renzi su Twitter con l'hashtag Serietà. Berlusconi è sempre Berlusconi, il leader di Forza Italia sui social come nel video del 1994. Il cavaliere è ancora pieno di capelli, capelli neri, fitti, perfettamente attaccati, tutti noi invece ormai ingrigiti, ma poi forse mica perché 28 anni dopo la sua prima campagna elettorale e Silvio Berlusconi ne comincia un'altra cercando di fare sempre Silvio Berlusconi. Letta dice che oggi è il giorno delle intese, sì di Rossoverdi e Di Maio. Enrico Letta ha chiuso il cerchio delle alleanze, due i patti elettorali di venerdì con impegno civico di Luigi Di Maio e con Bruno Tabacci. Si volta pagina, ora si corre per convincere gli italiani, dice il segretario Dem, mettendo fine alla giornata con una conferenza stampa con Di Maio e il Tabacci. Tenere fede al patto colpidio strappare i tormenti di calenda che non vuole stare con gli antidraghi. Così l'enigma del leader di azione è di nuovo quello di una settimana fa. Tenere fede al patto siglato con il PD martedì scorso, suggellato con tanto di stretta di mano davanti alle telecamere in quel di Montecitorio? Oppure cedere alle sirene della corsa solitaria, da protagonista di un terzo polo tutto da costruire? Ancora qualche decina di minuti e oggi l'ex ministro dello sviluppo scioglierà la riserva. Stando all'umore di ieri, quando ha saputo che Letta aveva raggiunto l'intesa con fratto Ianni e Bonelli, la tentazione di tagliare i ponti con il PD è forte, ma il Nazareno sono convinti che Calenda alla fine non romperà. Gelmini chiediamo il rispetto dei patti, noi liberali. PD, la sinistra. Calenda non cerca la rottura dell'alleanza appena siglata col segretario del PD, ma ha posto un problema di coerenza, dice la Gelmini in un'intervista alla stampa. Il PD doveva fare chiarezza e assicurare il rispetto del patto sottoscritto con noi. L'alleanza si basa su due distinte aree, quella liberale, popolare e riformista. E poi aggiunge che l'alleanza si basa su due distinte aree e l'accordo con sinistra italiana e verdi resta un problema di Letta, fintando che non mette in discussione i cardini del patto azione PD. È evidente invece che un eventuale ingresso in questa alleanza elettorale del Movimento 5 Stelle produrrebbe la nostra immediata uscita, ma non credo ci sia alcuna possibilità che questo accada. Siamo diversi dal PD e dagli altri partiti dell'alleanza e faremo campagna elettorale sui nostri temi. Mi candido nel proporzionale per sostenere queste battaglie, per rilanciare il protagonismo dei territori e dare loro maggiore autonomia, migliore formazione per i lavoratori, rimarca la Gelmini, che da quello che dice sembra che in azione militi da vent'anni, perché il nostro programma di qua di là, ma la Gelmini dice meno che per azione si dà l'obiettivo della doppia cifra. Renzi fa da solo il terzo polo, ha fatto una scelta per massimizzare i consensi del suo partito. Azione ha preso una decisione diversa per minimizzare i rischi per il Paese. Alla fine tutto quello che raccontano si riduce semplicemente alla corsa al mantenimento delle poltrone o al conseguimento di nuove poltrone. Tutto qui purtroppo non c'è nient'altro che la corsa per lo stipendio e per il mantenimento del posto. Non si parla tanto di potere, qui non c'è la ricerca del potere, qui c'è la ricerca e il mantenimento dell'accredito dello stipendio. Perché ricordatevi che la Repubblica italiana è fondata sul mutuo del parlamentare. Così io vi ringrazio, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Grazie a tutti per avermi ascoltato e vi ricordo che c'è anche Teleitalia Seconda Rete dove trovate video di politica, di notizie e di fai da te. Mentre poi c'è anche la pagina di Facebook che si chiama Teleitalia Seconda. Ci si chiama Teleitalia dove trovate anche lì questi video che sono condivisi dopo qualche ora in modo che se vi sono interessati li possiate condividere sui vostri profili Facebook. Grazie a tutti, ci vediamo quindi tra una ventina di minuti. Buon pomeriggio e buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.